...con te, dice, parte d'osso che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, e che il tuo regno sia fatta la tua volontà, con il cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane di Dio, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li mettiamo ai nostri servitori, e non abbandonarci dalla gestione. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Lo sei benedetta tra le donne, benedetta il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come anche il Signore, sempre in sé, e con te in sé. Benediciamo il Signore, gliediamo, grazie al Signore. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.